Tre candele accese, ciascuna per ricordare Marta Lucia, colombiana, Yang Yun e Li Yang, entrambe cinesi, le donne assassinate lo scorso 17 novembre a Roma, in zona Prati, nel territorio della parrocchia di Santa Lucia. Il loro suffragio è stata celebrata una messa, seguita da una veglia di preghiera per tutte le vittime di tratte sfruttamento sessuale, ma anche per quante abusano del corpo delle donne. Ci sembrava giusto, come comunità cristiana, vivere questo momento di preghiera e alzare l'attenzione, sollevare l'attenzione su un problema di povertà morale, che purtroppo è molto diffuso, perché non vogliamo rassegnarci al male. I tre delitti efferati hanno lasciato attoniti i residenti, spesso ignari di quello che accade nelle case e per le strade del loro quartiere. Sentiamo notizie di guerra, di morte, di tragedie e continuiamo a vivere come se nulla fosse. E' vero, il problema dell'indifferenza è un problema gravissimo, ci sono delle coscienze assopite. Rischiamo tutti di far addormentare le nostre coscienze se non siamo vigili. Abbiamo da poco iniziato il tempo d'avvento, il primo imperativo che ci ha consegnato il Vangelo è state attenti, state desti, aprite gli occhi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.